buonasera e benvenuti miei cari mozzi del vintage a una nuova puntata dell'ardire sognante il magazine che ti meriti per dio qui siamo in compagnia del buon michael ciao michael ciao a tutti sì sì la live sta andando bene stia registrando sì sta registrando sei silenziato no no adesso ci sentino ci sentono anche su telegram ovviamente non può iniziare bene una live se non facciamo casini con telegram ovviamente però abbiamo appena iniziato quindi da poco non vi siete persi metà live ma noi persistiamo a stare in telegram esatto cazzo che noi ci piace la russia è giusto viva putin iscriviamoci iscrivetevi a telegram anzi fatelo veramente perché comunque non potete perdere nessuno dei nostri aggiornamenti all'interno di fate facetelo vi prego vi prego fatelo e soprattutto vi prego fateci soldi allora prima di iniziare la live è giusto fare un paio di chiavementi siamo veramente euforici questa sera ragazzi sono veramente euforico figa allora innanzi di tutto per parlare un giargo italiano stavo pensando di continuare l'ardire sognante non ogni settimana ma ogni due settimane quindi ogni venerdì per ora venerdì per questioni anche lavorative perché purtroppo god say the vintage però non è il nostro lavoro ufficiale e quindi noi necessitiamo di turnare di turnare perché facendo i turni io facendo i turni sei due di dieci una settimana come sta settimana posso tranquillamente fare le live il venerdì l'altra settimana è un po casino e quindi siamo costretti per ora per il momento finché almeno non ci date i soldi dateci i soldi non avete più scusa perché per seguirci una volta ogni due settimane cioè a quel punto significa che proprio non volete seguirci e vi compattiamo e vi comprendiamo non mi seguirei neanche io potessi necessitando trovarmi un'altra occupazione e non volendo più lavorare in vita mia c'è necessito che qualcuno mi segua ecco nel mentre che stiamo parlando abbiamo pubblicato in questo momento doveva uscire le 18 l'ho fatto uscire le 19 per sbaglio su telegram mentre ci state seguendo vi consiglio un libro che è una una serie di messaggi che inviamo dei link che inviamo tutti i giorni su telegram per chi si ci stesse seguendo su twitch o in in differita su youtube una un link a mezzogiorno un link alle 18 questo giro 19 scusatemi in cui vi consigliamo un libro da acquistare di vario genere ma non solo stiamo anche pubblicando un paio di fumati e quindi se siete interessati a cercare dei libri talvolta in sconto andate pure su telegram e lo trovate al di fuori di ovviamente articoli documentari che trovate sempre costantemente su sui nostri social bene non tergiversiamo ulteriormente ed entriamoci all'interno della live di questa sera e a sto giro do la parola inizialmente a michael oh era ora adesso devo soltanto capire di cosa parlare no scherzo di cosa parlare e di cosa potremmo non parlare oggi giorno oggi in questa in questa serata speciale se non della prossima tesissima serie tv di amazon prime prime no sul signore degli anelli e non dei tarzanelli attenzione attenzione già vi dico che sto aspettando trepidante proprio un'attesa quasi spasmodica la mia di vedere di di assaporare no non è vero proprio non ho la minimo il minimo hype come si dice in gergo a proposito della serie infatti mi è bastato già il trailer ok per tu hai detto che non la vedrai no certo non la vedrò mi è bastato il trailer e per chiunque si azzardi a dire santi dio che bisognerebbe prima guardarsi una serie prima di commentare no le dico grazie ma questi consigli potete ficcarveli dove non vi batte il buco del culo dove non mi batte il fato diciamo no siamo politicamente scorretti noi non dobbiamo avere timore di vapan gul perché onestamente soltanto limitandomi al trailer ho già capito qual è la ideologia di fondo che sposa il progetto di amazon prime e quindi non ho la benché minima voglia intenzione di approfondire ulteriormente la serie quindi parleremo di questa cosa qui in questa sede questa sera e poi probabilmente non a meno da parte mia non affronterò più l'argomento non mi interessa potrebbe anche essere la serie tv più migliore o quella tra le meglio realizzate di amazon prime ma la cosa non mi tocca in quanto l'opera in sede debitrice per chi di voi lo sapesse tanti nemmeno lo sanno di un'opera letteraria fondamentale importanza fondamentale oserei dire della letteratura tutta senza star lì a scendere o parlare di generi specifici di tolkien è un'opera che già dal trailer già dalle impostazioni con la quale si è approcciata la serie lo stesso produttore di amazon prime mi fanno già ben capire che non è un adattamento ma è una sorta di reboot di rifacimento di cui si prende ispirazione soltanto da qualche pallido richiamo alle opere del signore degli anelli il perché dico questo perché lo dico perché 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 non lo so volevo dire che tra aggiungo che se non sbaglio dovrebbe parlare del sì o una parte o tutto o tutto del simmarillion se non è esatto esatto in teoria è ispirato se non sbaglio la seconda era del simmarillion quindi molto antecedente la battaglia dell'anello che si svolge poi praticamente verso la fine della terza inizio della quarta era e però la difficoltà di approcciarsi alle opere di tolkien è già risaputa l'ha fatto splendidamente peter jackson con la trilogia la prima trilogia l'ha fatta in maniera arrancante durante la seconda trilogia dell'hobbit la cosa bella della della serie di film nella prima trilogia è che jackson è riuscito a scrivere una sceneggiatura che davvero ad attinto pene mani dall'opera originaria l'ha adattata splendidamente in un contesto cinematografico cosa che non era affatto facile io ha avuto un ulcero fulminante rimango basito perché davvero ha fatto un qualcosa di difficilissimo addirittura ha escluso anche per chi conosce il libro la parte relativa a tom bombady molto importante nel contesto del libro ma che davvero non sarebbe stato in grado nessuno di rappresentare al meglio sul grande schermo e ha davvero fatto un qualcosa di incredibile tra l'altro so che i ragazzi della slip dots che ti consiglio di vedere spesso e volentieri sul loro format come cazzo hanno fatto la primissima puntata di questo format era dedicato al signore degli anelli e faceva vedere gli effetti che hanno utilizzato per per fare i film e sono una cosa impressionante perché era un mix tra si computer grafica ma c'era soprattutto anche tecniche vecchio stile semplici effetti molto artigianali molto artigianali molto artigianali che hanno reso questo signore degli anelli una cosa incredibile ecco ha fatto un appunto un adattamento rimanendo cosa fondamentale se si vuol fare un adattamento di un'opera in qualsiasi tipo rimanendo però fedele allo spirito originale dell'opera e da questo già c'è la più grande differenza con la serie tv di prossima fattura di amazon prime cioè il fatto che non è un adattamento perché da come ci è già stato ampiamente fatto vedere durante durante il trailer è chiaro che si voglia andare su un basarsi sul signore degli anelli perché un titolo di sicuro richiamo un titolo intergenerazionale che ha un sicuro mercato che è riconoscibile ma si ferma lì non è un adattamento in rispetto all'opera di tolkien e lo si è dimostrato ad esempio inventandosi di sana pianta l'esistenza del famigerato elfo silvano di colore che è una persona sì te la devo dire che tu conosci cioè io conosco molto bene ma tu conosci di fama ok che fa molto ok hai già capito tutto che pochi giorni fa quando gli ho detto su questa cosa dell'elfo nero elfo silvano nero lui ha detto ma ci sono anche gli elfi scuri sì ho capito ma qui stiamo parlando di tutt'altra storia ha cercato di giustificare a modo suo questa certo che bisogna sempre giustificare qualcosa di ingiustificabile perché se non si apre bocca per dire non si è non si è d'accordo anche perché chiunque abbia una minima conoscenza di tolkien sa benissimo che la cosmogonia dalla quale ambientato il signore degli anelli si immarigliano tutte le sue opere fanno parte di un mondo che ha delle precise identità e delle precise regole semantiche linguistiche eccetera che lo stesso tolkien ha fatto quindi stiamo parlando di un'opera di finzione di fantasia che però è stata puntigliosamente eccepita in ogni sua parte dall'autore quindi non è che si può andare a sbizzarrirsi di fantasia adattando adattandolo come quanto ci ci pare perché vi sono delle regole ben precise l'opera in sé tolkien stesso specifica come non ci siano differenze etniche no che vadano a comprendere elfi di colore o meno c'è una grande mappa c'è una giustificazione sulla quale i popoli dell'est gli elfi dell'est hanno una carnagione più scura che non significa che siano effettivamente di colore ma hanno una carnagione più scura perché sono più esposti alle intemperie a un clima torrido e quindi come succede nella realtà chi abita in zone del genere tende ad avere la pelle più scura un elfo silvano che abita prevalentemente il bosco atro comunque zone coperte dalla luce solare mi spiegate come diavolo fa ad avere il colore della pelle scura è chiaro che sia dovrebbe essere palida in sé e questo non è una semplice considerazione del perché non bisognerebbe inserire attori di colore quant'altro non venga la gente a dire che diciamo per razzismo è una semplice è un semplice caso di adattamento se tu mi fai un adattamento di un'opera mantenendomi intatto lo spirito originario mi devi mantenere quelle caratteristiche intrinseche dei personaggi in base alla loro provenienza quindi non mi facevi in elfo silvano di colore mi facevi un elfo proveniente magari nelle zone dell'estero un esterlingo di colore più scuro che che stava al contesto all'interno del contesto letterario dell'opera stessa e le polemiche non le avresti fatte perché prima hanno lanciato il sasso quando hanno nascosto la mano adducendo come i fan noi fan dell'opera di tolkien siano troppo col parocchi e che semplicemente una cosa del genere è troppo ha suscitato un clamore troppo troppo esagerato che non è non è quello non è così non è il fatto che vi sia un attore di colore che interpreta un elfo piuttosto che l'obito che per esso che ti fa storcere il naso in questo contesto il fatto che viene fatto in spregio che viene fatto in spregio alle opere originarie di tolkien quindi non si parla più di adattamento ma si prende hanno preso spunto a quest'opera perché è un sicuro richiamo ci hanno speso su una fracca di soldi faranno successo in ogni in ogni modo a dispetto di qualsiasi polemica e tanti saluti e allora a quel punto io mi chiedo mi domando che senso a fare degli adattamenti perché non partire creando un qualcosa di completamente nuovo e diverso perché sarebbe rischioso chiaro però così un'opera tratta dal signore degli anelli mi sembra più vicino a un the witcher sì non voglio dire che the witcher non sia bello anche perché non l'ho approfondito non potrei dirlo però qualcosa che mi va a snaturare completamente richiamo al signore degli anelli è una semplice operazione di marketing quella a quel punto e il fatto è perché si è voluto inserire questo attore di colore per rispettare quelli che sono un sistema politico proprio agandisti perfetto progressista o chiamatelo come come vi pare il post modernismo che ha raggiunto una una soglia una capacità ideologica tale per la quale bisogna rispettare e riconoscere ogni possibile minoranza all'interno di una società livellarle tutte quante affinché nessuna di questa ipotetica minoranza possa contare poi alla fine alcunché perché poi siamo costretti ad inserire per forza di cose l'attore di colore di una certa etnia per rispettare la minoranza di tutti però a quel punto lì si fa una discriminazione ancora più pesante perché perché quell'attore è stato inserito non per la sua capacità non per la sopravvura o meglio non in primo luogo per quello ma soltanto perché a quel colore della pelle o a quell'etnia che viene a rappresentare una minoranza tutta quindi mi sembra una grandissima paraculata amazon non c'è nuova queste cose ha seguito e sta seguendo predissequamente i passi già compiuti a suo tempo da netflix e ogni volta si va a peggiorare questa situazione quindi da questo punto di vista mi pare mi pare assurdo il problema è che poi la gente si abitua a questa cosa e rischia di rimanere dietro questa ideologia ma non è una questione ce l'ho con una tipologia di persone è proprio una questione di andare a distruggere un'opera o comunque modificarla drasticamente per far piacere ad altre persone che hanno un parere differente da quello che magari si poteva avere tempo fa che è sbagliatissimo perché vai a distruggere l'intelligenza ecco vai a rovinare proprio l'intelligenza e la normalità di guardare semplicemente un'opera per quello che è esatto infatti beh da questo punto di vista banalmente è come se il signore degli anelli possa essere apprezzato da chiunque soltanto perché qualsiasi etnia differente da quelle rappresentate tra virgolette all'interno del film che ripetiamo non esiste etnia intesa come la nazionalità dell'attore che va a interpretare quella parte ma esistono le etnie presenti nell'interno della cosmogonia del signore degli anelli elfi uomini orchi e quant'altro quindi già lì è un'assurdità se tu mi presenti un personaggio pallido perché vive in determinate lande deve essere pallido o che importa quale sia la sua reale nazionalità ed è un qualcosa di parecchio limitante perché sembra quasi appunto che il signore degli anelli o le opere di Tolkien possano essere apprezzate soltanto fin quanto sono rappresentante rappresentate sullo schermo sui vari adattamenti da quante più minoranze tra virgolette possibili ed è una cazzata è un'assurdità è una violenza ideologica da questo punto di vista che non può che scontentare non dico un fan perché poi lascia quasi passare il termine di fanatico ma semplicemente un appassionato uno che ha preso aperto il signore degli anelli che se vuole essere eletto nella sua eccezione più alta è chiaramente necessita di una lettura del libro perché è un'esperienza del tutto diversa anche se l'ultimo adattamento in italiano del libro è abbastanza discutibile anche lì andiamo a toccare anche qui un argomento molto più ampio che è l'adattamento necessario o quello che ci viene detto quando si rende necessario un adattamento di un'opera dopo un tot di anni magari passano 30 40 50 anni quindi bisogna adattare una tale opera a un mercato a un cambiamento di paradigma della società che però cosa succede? non è un adattamento ma è uno stravolgimento di quello che ho fatto comunque ha stravolto nomi, luoghi l'ultima traduzione del Bonpiani giusto? si che ha completamente capovolto tutto io capisco che vuoi rendere più facile la lettura ai giovani con uno slang, con una grammatica un pochino più facile rispetto a quella del passato la posso anche capire questa cosa qua ci sta perfettamente ma l'eccessiva modifica che ha trasformato anche i nomi dei luoghi, delle persone adesso non mi viene neanche in mente fare una citazione beh San Pritch invece che Sembise Genji per il nome si sono una questione di Forestale anziché Ramingo ci devi far ridere, Guardia Forestale e Terra di Daino come diceva vabbè mi spiace fare la citazione di Kalel che mi ha detto che Terra di Daino sembra il nome di una locanda qui nel Vercellese nella trattoria del Vercellese a parte l'abbattuto ma è vero comunque però è non va bene però qua già stiamo uscendo dal discorso questa è già una questione differente la serie tv è un'altra ancora peggiore esatto molto più grave è un altro media perché poi viene avvicinato da persone che in quanti effettivamente avranno letto o andranno a leggere Il Signore degli Anelli o le opere di Tolkien che è anche un libro è un'opera impegnativa stiamo parlando di oltre mille pagine da leggere e che hanno uno stile discorsivo che scolpiscono un immaginario che non è semplice da capire o da recepire quando tu lo stai leggendo quindi si va a tentare di infantilizzare a mio avviso un racconto che non è adatto ad essere compreso e capito da chi è più piccolo necessita sforzo e sacrificio come qualsiasi opera beh guarda anche lo scrivacchino l'ha letto cos'è che aveva detto? era piccolissimo ma sì ma tu puoi anche leggerlo a sette o otto anni ma cosa ne potrai mai capire? certo certo non è questo adesso certo certo assolutamente è chiaro che hai bisogno di un'altra età però tu non vai a come sta accadendo come è accaduto durante l'ultima traduzione a fare un adattamento cercando di portare un'opera che ha un certo livello qualitativo cercando di abbassarlo per renderlo così più fruibile dalla massa semmai dovrebbe essere fatto l'episodio inverso cioè bisognerebbe fare in modo che le persone cerchino di si sacrifichino tra virgolette un po' per elevarsi al livello dell'opera certo mi viene quasi un discorso di comunicazione di marketing che viene adattato anche a più vari contesti anche a un contesto banalmente politico dove si vede il politicante così che va verso la folla quindi quando vedi il politicante che viene ripreso dai social media che mangia in una trattoria fuori vorgata o si comporta come una persona normale quale un politicante effettivamente è perché non è che viene dalla luna ma è una persona comune normale diciamo che anche lui respira anche lui ha un buco dell'ano certo però il contesto qual è? quando hai una personalità del genere me la porti a livello dell'uomo comune qualunque è un qualcosa di positivo e non è così perché in quel contesto li occupa una parte importante una parte di rappresentanza del paese quindi è giusto che sia lui stesso un esempio un esempio con le sue azioni per gli altri quindi è tra virgolette il popolo chiamiamo così che dovrebbe andare seguendo l'esempio verso una progressione e non l'inverso il politicante che va verso il popolo per cercare di in alcuni tratti imbarbarire la comunicazione e la stessa cosa viene fatto con opere caposaldi della letteratura in questo caso che invece di elevare chi si approccia ad esse si va a praticamente abbassare la qualità espressiva dell'opera per per appiattirsi al al volere al volere o alle abilità del di chi va a fruire di di quel contesto lì di quell'opera e quindi amazon prime lo fa in questo adattamento lo fa come lo fa chiunque prende un'opera di un certo livello la svilisce per renderla di massa massificarla ma così facendo non fa un'opera di adattamento ma fa una riconversione e presenta un qualcosa che nulla ha a che fare con il signore degli anelli se non per il fatto che ne richiama l'immaginario collettivo una bella paraculata che ti lascia interdetto e alla fine ti porta a dire che ti basta semplicemente il trailer per capire che non è un qualcosa che personalmente mi interessa approfondire oltre si diciamo che non so neanche io se la vedrò perché non vorrei che rovini ulteriormente la bella nomea che ha la buona nomea che ha il signore degli anelli rovinata tra l'altro da persone al di fuori della della mente di Tolkien pace l'anima sua sia chiaro ma sì ma sì ma sì in ogni caso l'unica cosa che posso dire è continuare a continuare sperare che non rovinino ulteriormente peggio di quello che già immaginiamo la grandissima storia di Tolkien Michael non la vedrà ma giustamente io penso che neanch'io avrò questo onore anzi disonore e quindi io vi chiedo a voi gentilmente chi ci segue su live ma anche chi ci seguirà in differita su youtube cosa ne pensa cosa ne pensa però prima Michael forse vuole dire qualcosa l'ultima aggiunta la cosa bella cos'è di quando hai a che fare con cose di di un'altezza culturale così come è rappresentata l'opera di Tolkien qual è? è che qualsiasi facenza qualsiasi orrenda riproposizione delle sue opere qualsiasi tentativo di rovinare l'essenza lo spirito che porta il signore degli anelli che è un qualcosa di molto elevato specialmente alle luci di una lettura tradizionale dello stesso è che in ogni caso l'opera in sé rimarrà per sempre quindi qualsiasi tentativo di strumentalizzarla o rovinarlo passarci o sfruttarne il nome per passarci determinati messaggi ideologici non prevarrà e non potrà mai prevalere perché appunto noi abbiamo l'opera originale che possiamo goderci da questo punto di vista vi invito anche andare sul nostro sito recuperare anche qualche articolo passato mi viene in mente l'esempio dell'articolo di non inginocchiate non inginocchierete Lovecraft che tratta e parla di una cosa di questo tipo aspettate che prima devo fare una modifica alla live perché ci segui su twitch così potrai vedere perché devo modificare un'altra capture sorgente aggiungi sorgente inserisci il nome che non si sa mai arrivo ragazzi portate pazienza utili eh ah no ho fatto una cagata questa questa la devo cancellare rimuovere ok bene eh niente ho fatto appena una gaff perché non mi ricordo più come si faceva no perché se lo uso da qua si vede nome e cognome quindi non mi sembra il caso vedi che qua c'è scritto nome e cognome ah sì 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 aspetta acquisizione schermo che pirla ecco che cos'era managgina aggiungi sorgente no però questa non vabbè posso fare così posso fare così dovreste vedere questo è il sito www.godsavedevintage.com qui tra l'altro devo anche modificare la pubblicità perché non c'è più e avete la possibilità di addentrarvi nel mondo dei nostri articoli andiamo su tutti gli articoli ci sono tutti i generi possibili storie videogames libri giochi a tavolo stilettati in diesis etch 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 lui mi sta consigliando di andare su stilettati in diesis per far rivedere la dove era che periodo era in sotto abbastanza vecchiotto aspetta vedete che comunque eccolo qua nessuno potrà mai inginocchiare Lovecraft che parla di un discorso di questo sito tra l'altro ancora il logo vecchio quello molto artigianale madonna comunque guardate l'impostazione dell'articolo vi consigliamo di andare anche a a guardare i nostri vecchi articoli e cercare di far andare avanti un po' anche il sito perché comunque lo diciamo merita in ogni caso anche se non andate sul sito anzi dovete andare sul sito ma principalmente se volete che sappiate l'uscita di ogni singolo video di ogni singolo articolo ma anche video basta iscrivervi a Telegram ragazzi perché è importantissimo questo su Telegram non perdete nessuna notifica io continuerò a ripetere all'infinito perché lì avete tutto il mondo di gozze dei vintage a vostra disposizione non vi perdete una notifica non vi perdete un video non vi perdete nulla dei nostri lavori venite informati su tutte le notizie avete anche in più link su possibili libri che vi consigliamo talvolta anche scontati quindi più di così che cazzo volete vanno a giurirà giusto? eh 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 va bene basta adesso addentriamoci nella seconda parte perché per l'appunto per l'appunto parlando di articoli uno degli nostri ultimi articoli uscito questa settimana se non sbaglio martedì sì martedì abbiamo parlato di un personaggio storico quindi lasciamo perdere vabbè fa niente fa niente lasciamo perdere tanto non lo stanno vedendo in questo momento lo vedranno loro lasciamo perdere i videogiochi lasciamo perdere ah non so il mondo di di Tolkien ed entriamoci in un mondo in cui effettivamente un po' di letteratura c'è diciamo che è la nascita di una famiglia che poi diverrà famosa è divenuta famosa nella storia della letteratura mondiale come i Duma che tra l'altro come avevo detto in un vecchio video stupidino avevamo fatto un video sul lettore di racconto che parlavamo di Jules Verne avevamo parlato un attimo una citazione piccola su Alexandrumat e parliamo di Alexandrumat junior Alexandrumat senior e questo è quello che posso chiamare Alexandrumat nonno è effettivamente il donno è il nonno che hai fatto il nonno non parliamo grandpa 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 esatto non parliamo del di colui che scrisse la signora delle camellie junior ti fa ridere l'immagine ma poveretto non è l'immagine che mi fa ridere che per una volta porca puttana non hanno sbagliato il colore dei personaggi se fosse uscito oggigiorno lui probabilmente sarebbe bianco il cane sarebbe nero questo lo capite se guardate l'articolo se guardate l'articolo che vi sto per citare capirete se andate sul sito di fatti god say the vintage o su telegram lo troverete troverete l'articolo Thomas Alexandrumat il diavolo nero chi cal'è? chi è? traduto non ho rapito dai denti di questo cavallo insolitamente piccoli tra l'altro un bellissimo cavallo arabo comunque Thomas Alexandrumat il padre di Alexandrumat colui che scrisse il conte di Montecristo ergo il nonno di Alexandrumat si però cazzo ho trovato gli altri nomi fega quello della signora delle camellie da dove nasce la famiglia Duma? ecco da un utero da un utero certo ma nello specifico che tipologia di utero? no a parte gli scherzi stiamo stiamo impazzendo Alexandrumat il nonno o per essere più precisi Thomas Alexandraví della Pelletterie Pelletterie bravo bravo è nato è nato nell'odierno a Haiti perdonatemi il 20 giugno del 1714 nato dalla relazione di un famoso nobile dell'epoca cioè Alexandre Antoine Daví della Pelletterie e Marie e questo non so pronunciarlo Cesette ma io lo pronuncerei in italiano Cesette Cesette Cesosette che qua c'è un errore perché c'è scritto Schiavaniero quando dovrebbe esserci scritto lavoratrice subordinata interinale ah si perché non si può dire Schiavaniero perché sarebbe scorretto anche questo in quel periodo schiavi quindi Alexandre che non si chiamava ancora Dumas nacque da una relazione tra un nobile francese no non era sposato no 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 precisiamo non era sposato era una relazione non ufficiale a cui non gli importava nulla in quel momento perché tanto doveva insuppare il biscottino ed era un nobile che in quel momento si trovava ad Haiti che era una ex colonia francese pochi anni praticamente pochi anni dopo ci sarebbe stata la famosa rivoluzione haitiana che mi piacerebbe anche trattare prima o poi questo bambino si ritrovò in una situazione anche abbastanza difficile poiché la madre morì abbastanza giovane per colpa tra l'altro di una bruttissima malattia non chiamano malattia di senteria è un punto da dire non c'era la mutua a quei tempi per i lavoratori interinari subordinati esatto partai allora lui si ritrovò in una situazione difficilissima poiché il padre quando morì non la chiamo moglie la compagna compatrice umane fece praticamente vabbè me ne torno in Francia e i figli e vabbè chi quali figli aveva dei svaletti figli oltre a Thomas Thomas Alexander e gli vendette come schiavi praticamente sempre da Haiti tranne lui che si lo vendette come schiavo ma come prestito ma perché stiamo parlando di una cosa seria non possiamo continuare vabbè è seria però non può essere seria perché è in senso cioè se avete dei bambini con un colore che non diciamo non vi aggrada potete darli dentro a una filiale della banca sotto casa magari può darsi che ve li trasferiscono da qualche parte sei un coglione sei un coglione adesso questi ci ammazzano fotte sega vabbè allora va dello spirito perché è una storia con una casciurda eh se ci pensi comunque questo povero bambino dodicenne venne venduto come schiavo a differenza dei fratelli lui venne venduto momentaneamente perché il padre aveva promesso che sarebbe tornato a prendere lui gli altri chi? un mutuo via hanno mutualizzato il figlio ha mutualizzato il figlio maggiore gli altri no chi sono? quelli lì purtroppo sono rimasti nell'oblio delle sabbie del tempo da Astoni vabbè questo bambino mulatto dico mulatto perché è una terminologia grammaticale italiana mulatto mi sembra non è che appena dici qualcosa del genere razzista però io per non incorrere in eventuali censure direi muletto muletto si richiama un po' comunque il colore però sai boldrini ciao vai basta questo bambino mulatto o muletto si ritrovò dai 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 sia serio per dio questo povero questo povero bambino sembra una barzelletta di Aldo Baglio sto cazzo di bambino vi prego fateci domande perché siamo un po' in imbarazzo poveretto ma è il bambino sì il bambino allora questo bambino si ritrovò poi da schiavo di colpo in Francia nell'aristocrazia all'interno dell'aristocrazia francese cioè da un da un mondo all'altro in maniera completamente eh pazzesca molto avventurosa diciamo possiamo dire romanzata ecco può sembrare un romanzo in effetti in effetti poi dicono che non sono inclusivi in Francia comunque questo bambino cresce viene istruito da da grandi professori dell'epoca e a 24 anni nel 1786 quindi alle porte della rivoluzione francese decide di entrare nell'esercito si arruola nella cavalleria dell'esercito francese ed è in quel momento che cambia il cognome prendendo come cognome Dumas ma perché poi? Dumas era il soprannome che aveva la mamma adesso non ti so dire precisamente qual è il significato di quella parola mi piacerebbe scoprirlo infatti purtroppo in giro è difficile trovare informazioni deve essere un chiaro penso riferimento alla Duma Parlamento Russo simpatizzare Istan che anno è 1776 ci stiamo pieno ci stiamo bene ci sta ci sta vabbè questa spia russa no scherzo questo bambino che diventa questo ragazzo che adesso diventa Dumas cambia cognome può essere per due motivi o il primo motivo era perché il padre non voleva sfigurare il ramo nobiliare della casata perché comunque nacque da una relazione con una schiava invece la seconda è probabilmente una sottospecie di protesta del figlio contro il padre che poi aveva deciso come ha fatto prima vabbè chi mi sposo con un'altra una nobile e lui allora come protesta ha cambiato cognome questa cosa qua fosse finita su forum fosse finita su forum o beautiful in ogni caso questo soldato si ritrova immischiato all'interno della grande rivoluzione francese e qui ha potuto dimostrare la sua capacità in battaglia cosa che gli ha permesso di crescere nei ranghi dell'esercito molto velocemente arrivando a 31 anni con il grado di generale voi immaginatevi può sembrare strano però immaginatevi nell'esercito francese un generale mulatto che non vuol dire niente ovviamente è chiaro però è affascinante immaginarsi questa scena molto particolare molto pittoresca ho trattenuto un rutto sappiatelo comunque queste sue caparbietà lo portano a combattere nella guerra di Vandea e combattere nella prima campagna d'Italia queste esperienze gli hanno dato la possibilità di essere visto da Napoleone Bonaparte anzi come dici te? Napoleone Bonaparte Napoleone in quel momento si stava preoccupando della creazione della nuova armata l'armata d'Oriente che avrebbe dovuto conquistare l'Egitto una conquista che poi lui nella sua mente fantasticava soltanto l'inizio di una grande espansione in stile Alessandro Magno ricordiamoci che Napoleone era innamorato delle storie di Alessandro Magno lui si immaginava di conquistare l'Egitto per poi andare ancora più a Oriente verso le Indie dove si fermò Alessandro Magno esatto cosa che poi il direttorio nonostante il direttorio lo odiasse certo ma non aveva il potere di zittirlo Napoleone perché comunque durante la prima campagna d'Italia aveva conquistato una fama così grande che oramai il direttorio se faceva qualche sgarro rischiava molto grosso contro Napoleone e Napoleone in quel momento ebbe solo l'opportunità finanziaria da parte del direttorio di conquistare l'Egitto oltre gli hanno praticamente detto sossordi tuoi lui allora si stava organizzando per creare non solo un'equipe efficiente dell'esercito ci stava piccola precisazione piccola pillola di storia anche una grande equipe di intellettuali perché stai ridendo ma perché stai ancora pensando alla stronzata di prima no cosa stai pensando vai avanti nella tua dissertazione il tempo è tiranno il tempo è tiranno e la pizza ci sta aspettando non Napoleone Bonper vabbè stava anche creando un'ora autorevole e anche molto un'ora autoritaria che è ben diverso no? potremmo dire anche così vabbè ma era anche molto permaloso lo scopriremo tra poco questa cosa qui molto 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 permaloso vabbè durante la scelta la selezione degli ufficiali da portare nella campagna d'Egitto e scelse grandissimi generali come Kellerman Desiè quello che colui che lo salverà Marengo eccetera eccetera decise di prendere anche Dumas questo Dumas che aveva già dimostrato queste grandi capacità si ritrovò a combattere nella battaglia delle piramidi anche se poi non si dovrebbe chiamare battaglia delle piramidi perché nell'immagine nei quadri dell'epoca fanno vedere che le battaglie le fanno proprio ai piedi delle piramidi invece erano erano a vista certo ma non così diciamo la propaganda se parli di Egitto se non ci metti le piramidi cos'è l'Egitto che cazzo che charme sheik ripresentatemi charme sheik su una cartina qui arriviamo all'apice del successo di Alexandre ma arriviamo anche all'inizio della caduta una grande caduta per il semplice fatto che Dumas che era entrato nell'esercito rivoluzionario per seguire gli ideali del rivoluzionari vide l'eccessiva ambizione di Napoleone che voleva combattere più per il suo per la sua nomea per la sua grandezza più che altro per gli interessi rivoluzionari e Dumas ebbe l'ardire di accusare pubblicamente in faccia a Napoleone il fatto che lui era andato a combattere Dumas era andato a combattere in Egitto per la Francia non per un ambizioso uomo come Napoleone al che Napoleone gli girarono i coglioni in una maniera impressionante lui era un grande stratega era un grande politico ma era anche un uomo che non dimenticava niente sia nel lato positivo che nel lato negativo e questo l'ha portato ad odiare enormemente Dumas che decise di congedarlo con disonore seduta stante senza il permesso del direttorio perché ripeto quello che ho detto prima il direttorio comunque aveva poco da fare contro Napoleone in quel momento era già potentissimo e poi il direttorio diciamo che a quei tempi lì contava come un erfo Silvano Nero esatto 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 fai conto che poi infatti un governo rivoluzionario poco prima della partenza di Napoleone in Egitto si ritrovava all'interno dei politici realisti cioè il nemico della rivoluzione che poi vennero arrestati quasi tutti durante il colpo di stato non del 18 Brumaio ma del 18 Frutti d'Orio Frutti d'Oro scusatemi scusatemi mi pare di sì praticamente lo stesso poi anche con Basset che è un grande mi pare fosse di no lui era repubblicano non mi ricordo anzi lui votò anche a favore del ghigliottimamento di re Luigi ho capito ho capito però vi fu comunque personaggi molto vicini a Napoleone che erano realisti tra virgolette non fedeli alla casa borbonica ma insomma però tante di queste persone che sono state arrestate in quel colpo di stato ci ritrovarono nella guinea francese l'inizio di un'altra storia sulla famosa Isola del Diavolo o come nel film Papillon ma questa è un'altra storia torniamo a noi il cosa c'è cosa ridi movimenti compulsivi quando dici cose mi fai movimenti compulsivi mi fai venire da sorridere allora noi ci schiamoci e Dumas in questo momento si ritrova senza grado completamente completamente perduto e si ritrova a dover cercare di tornare in Francia in un momento in cui il Mediterraneo era completamente no aveva una predominanza inglese c'era Nelson che aveva distrutto la flotta francese ad Aboukir nella prima battaglia di Aboukir prima navale la seconda terrestre ma con un altro discorso non aveva neanche più figli da dare impegno tra l'altro esatto esatto lui no questo è un altro un poveretto comunque tornando con una nave verso verso la Francia si ritrovò in mezzo a una grande tempesta e la tempesta lo costrinse a cercare riparo presso il porto di Taranto e lì iniziarono i problemi per il semplice fatto che il regno di Napoli era anti-rivoluzionario ovviamente in quel momento e venne immediatamente arrestato e rinchiuso presso il castello aragonese di Taranto dell'omonima città e lì passò due anni infernali due anni in cui venne buttato in una cella fetida piccola buia e fu una cosa che purtroppo lo portò a essere storpio a perdere la vista da un occhio e la sua grande forza che aveva perché era famoso per la sua grande forza fisica era solo un lontano ricordo mi ricorda la mia fine negli ultimi due anni esatto 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 non proprio così però non sono cercato da un occhio e in due anni la Francia non si azzardò mai a proporre referendum non mi vengono i termini ragazzi sono stanco scusatemi un un riscatto perché ovviamente Napoleone aveva messo ovviamente in mezzo la sua permalosità e non permise mai la sua liberazione se non nel 1801 quando venne liberato e poté tornare come civile a casa dove tra l'altro ebbe la possibilità infine con la moglie che aveva sposato che in questo momento non mi ricordo il nome ebbe un figlio e chi è sto figlio? Alexandruma è qui che ripeto non c'hanno inventiva Alexandruma 2 Alexandruma 3 vabbè in ogni caso a quei tempi in Francia si studiavano ancora i numeri romani esatto quindi adesso non lo fanno più perché sono diventati inalfabeti anche loro esatto esatto sapevo che voleva arrivare a questo ma in ogni caso questo quest'uomo che oramai è l'ombra di se stesso arriva a morire per un tumore allo stomaco nel 1806 lasciando il figlio di tre anni e mezzo con la madre e interessante notare che il figlio quando crescerà e scriverà il famoso romanzo il conte di monte cristo perché cazzo ti stai trattenendo no vabbè ma sempre no ti sto seguendo con attenzione anche perché il conte di monte cristo ok bellissimo romanzo tra l'altro abbiamo linkato sul canale tegra mi scrivetevi brutte bestie prenderà presumibilmente ispirazione da ciò che da quello che è successo al padre quindi dobbiamo immaginarci il racconto del del conte di monte cristo vedendo vedendo edmondante che prende il posto del del padre e il castello che adesso non mi ricordo il castello dove viene rinchiuso che prende il posto del del castello ragonesi di taranto quindi la la parte iniziale l'allegoria la parte iniziale della vita del protagonista del conte di monte cristo prende spunto dal padre stesso di alexandruman una storia triste ma che comunque fa piacere sapere che quest'uomo che ha scritto un grandissimo romanzo uno dei tantissimi grandissimi romanzi che ha scritto ha voluto citare in maniera un po' malcelata le gesta del padre che si ritrovò da grande generale a una fine triste anche le tematiche principali che ruotano attorno al conte di monte cristo cioè il desiderio di rivalsa di vendetta il rancore sono cose che adesso che hai spiegato la storia si fanno pensare fanno un collegamento si collegano perfettamente a questo personaggio quindi può anche darsi che sia il figlio stesso che quella parte di anche di ammirazione l'ha fatta rinascere a livello sentimentale e emozionale all'interno del romanzo ed è una bellissima cosa e l'unica cosa che io posso fare oltre a sentire quello che vi ho appena detto di andare a leggere l'articolo che abbiamo scritto questa settimana abbiamo pubblicato martedì ma soprattutto ragazzi di leggere il conte di monte cristo perché è una storia bellissima come dici te emozionante e tra l'altro è uno degli apici della letteratura senza poco qualcuno sta disturbando dopo arrivo eh vorrei solo vedere mentre facevamo una live abbiamo avuto un curiosone a controllare beh d'altronde registrando qui al parco sotto il rato con i drogati ero un drogato scusatemi che è venuto a vedere no si dice persone emozionalmente instabili che trovano ristoro nell'atto pratico del bucarsi le vene ah perché forse è meglio dire drogato toccarsi le vene nell'atto pratico di iniettarsi all'interno come dobbiamo cioè ormai dobbiamo stare attenti a cosa diciamo perché noi diciamo la verità noi desideriamo ordentemente il ban su Twitch no neanche ma si dai no siamo ancora piccolini baniamo ecco allora prima che ci banni no baniamo noi prima che ci banni no donateci prima che ci banni almeno abbiamo un piccolo tesoretto o commentate o commentate o commentate donandoti donandovi donandoci siamo arrivati a un livello estremo non ce la facciamo più donati tra la stanché si mi devo donare alla scienza ragazzi io vi ringrazio per averci seguito ricordiamo che questa live verrà ricaricata in teoria lunedì che bello su Youtube così potete non potete perdervi alcune idiozie di questa sera non siamo più stati seri come la prima puntata la prima puntata eravamo seri qui siamo usciti ma perché come dicevo nella prima puntata andate a vedervela in caso ve la siete persa ma nemmaggio a voi parlando di buonanotte e pum pum cosa ho detto che la vita è anche è l'assurdo è anche una grandissima presa per il culo quindi visto che già la vita ci prende per il culo perché noi non prendiamo per il culo gli altri è giusto e noi stessi e noi iniziamo da noi stessi ci vuole dell'ironia dell'autoironia il nostro progetto è anche improntato su quello non vogliamo fare i professoroni gli intellettuali ci stanno in culo e cazzo con tutti gli intellettualoni che ci sono in Italia abbiamo il buco del culo che è un cratere dell'Etna probabilmente però stai per dire una cosa troppo vicina alla nostra zona troppo vicina alla nostra zona non vorrei che poi ci vengano a prendere sotto casa sia mai sia mai come i The Show bene chiudiamo così pietosamente questa live noi vi ringraziamo comunque per averci seguito grazie mille per averci seguito di nuovo seguiteci su Telegram iscrivetevi su tutti i nostri social e ci vediamo in una nuova puntata dell'ardire sognante che il vintage sia con voi grazie a tutti